Ciao bimbi, oggi facciamo il pesce spada. Oggi facciamo il pesce spada alla siciliana, quindi con pomodorini, capperi e olive. Iniziamo. Iniziamo che Michi inizia a assaggiare i capperi da olive. Fai un assaggio, dimmi se tutto va bene. Va bene. Va bene, possiamo iniziare. Io devo assaggiare il pomodorino? No, lo assaggio dopo. No, lo assaggiamo dopo. Vanno bene anche i pomodorini? Allora, muoviamoci a fare questa ricetta. Allora, mettiamo in una padella un filo di olio. No, no. Vai. Vai, vai, metti un po'. Così, così. Mamà. Basta, basta. Ok. E uno spicchio di aglio. che io ho togliato a metà perché ho tolto l'anima. Let's. Ha fatto splash a me. Ha fatto splash. Adesso facciamo riscaldare bene l'olio e quando l'olio è caldo aggiungiamo i pomodorini. Adesso che si è scaldato l'olio mettiamo i pomodorini. Vai. Ok. Facciamo cuocere. Facciamo cuocere i pomodorini un paio di minuti e poi dopo aggiungiamo il pesce. Dopo che abbiamo rosolato i pomodorini mettiamo le fette di pesce spada. Io qua le metto. No, adesso queste le metto io. Cerchiamo di allargare i pomodorini in modo che così mettiamo la fette direttamente a contatto con la padella. Poi aggiungiamo le olive. I quelli metto io i capperi. Vai, svuotano i capperi. Ok. Il sale. Il seme. Qua. Ok. E un po' di origano. Ok. Adesso facciamo rosolare le fette da tutti e due i lati e dopo che sono ben rosolate mettiamo un pochino di vino. Ok. Quando si è rosolato da tutti e due i lati aggiungiamo mezzo bicchiere di vino e lo facciamo evaporare. Verso fine cottura aggiungiamo qualche fogliolina di menta e un pochino di pepe. E finiamo di cuocere. Il nostro pesce spada è la siciliana. con olive, i capperi, i pomodorini, menta e origano. Adesso prendiamo la forchetta e assaggiamo. Soffia. Hai perso l'oliva per strada. Vai mamma. Vai. Un pochino di pesce. Con il pomodorino. Com'è? Buona. Buona. È buonissimo perché infatti fatto così con i pomodorini, col sughetto verrà bello morbido. Poi comunque è anche veloce da cucinare perché fatto è cotto in padella. E quindi si può fare? Sì. È buono. È buono bimbi. È buono. È buono bimbi. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti.